Caserma dei Carabinieri, Pontile, Porticciolo, Manutenzione, tanta carne al fuoco per il Comune di Roseto per l'anno 2019. Sarà un anno importante per la mia amministrazione perché vengono a compimento il lavoro di questi due anni silenzioso fatto dal settore lavori pubblici e dall'assessore vicesindaco e da me personalmente. Sarà un anno importante perché dovrà prendere concretezza il progetto di ristrutturazione del Pontile, dovrà prendere concretezza il progetto di ristrutturazione del lungomare Roma, primo tratto dall'Hotel Liberty fino all'incrocio con Via Taulero. Abbiamo già fatto il mutuo per Via Taulero e quindi Via Taulero sarà ripavimentata nella parte verso il mare che attualmente è fortemente ammalorata. Dovrà prenderà corpo anche la nuova sede della Guardia di Finanza perché era una necessità e abbiamo messo tutti i presupposti per concludere i lavori della sede della Guardia di Finanza. Andremo anche a sistemare definitivamente il campo di Santa Lucia e il campo di Cologna Spiaggia dopo che quello di Fonte dell'Olmo è stato già sistemato. Andremo anche a fare un primo lotto di loculi carenti per il nostro capoluogo e quindi anche questo mutuo l'abbiamo chiesto e il cantiere si aprirà nel 2019. Andremo a smuovere il braccio a mare che dopo tante traversie in sinergia con la provincia contiamo di far partire il più presto i lavori. Sarà un anno quindi estremamente produttivo a livello di lavori pubblici. Abbiamo anche un piano di assunzioni molto importante. Abbiamo avuto 13 cessazioni dal servizio. Come comune virtuoso possiamo reintegrare tutte e 13 le figure in teoria. Stiamo adesso modulandoci economicamente, controllando, anch'io come assessore al bilancio sto controllando la compatibilità economica, ma andremo ad assunzioni in settori nevralgici come quello urbanistico, continueremo ad assumere presso la Polizia Municipale, inizieremo anche a reintegrare alcune figure di manutentore del verde, di operaio, di elettricista. Un anno che sarà quindi una sfida anche a livello di ristrutturazione dal punto di vista proprio del personale per questo ente. Conto sulla collaborazione dei consiglieri e dei miei assessori per fare del 2019 un anno veramente produttivo per Roseto degli Abruzzi.